Ciao a tutti amici di AstroPils e benvenuti ad una nuova puntata di Astrofotografia. Oggi parleremo dell'eterno dilemma della fotografia astronomica ovvero lunghe pose o brevi pose, qual è la differenza, quali sono preferibili e quando adottare l'uno e l'altro approccio. Questa discussione ha ripreso un po' piede oggi sul forum a quale sono iscritto al forum di astrofotomia.com e devo dire che effettivamente c'era molta confusione su alcuni argomenti ovvero c'erano persone che dicevano no bisogna prendere più brevi esposizioni perché il numero di esposizioni che conta, c'erano persone che dicevano no è il tempo totale che conta e persone invece che dicevano no è il tempo della singola posa che conta. Cerchiamo di fare un po' chiarezza. Come avevo detto già nella puntata principi di astrofotografia il rapporto tra segnale e rumore è qualcosa che cresce nel tempo in questo modo. Il segnale cresce in maniera lineare quindi una funzione lineare mentre il rumore cresce con una funzione che è inversamente quadratica quindi con la radice quadrata. E' chiaro come si vede in questo grafico che nel tempo maggiore il tempo di posa e maggiore sarà il rapporto tra segnale e rumore. Quindi sembrerebbe già che abbiamo risposto a questa domanda che il rapporto tra segnale e rumore è determinato dalla lunghezza della singola esposizione quindi è preferibile fare le lunghe pose. In sintesi potrebbe essere così se dovessi racchiudere e rispondere con una domanda secca lunghe o brevi io direi lunghe. Però scendiamo un po' più nel dettaglio e cerchiamo di capire anche gli aspetti pratici e le implicazioni che hanno le lunghe pose. Facciamo subito una precisazione. Stiamo parlando del rumore di lettura del sensore ovvero quel rumore elettronico che si genera quando il sensore sta leggendo quando è recettivo nei confronti della radiazione luminosa. Non stiamo parlando del rumore termico che si genera ovviamente con il riscaldamento del sensore quando questo è attivo ma con il rumore di lettura ovvero quello che voi poi andate a rimuovere nelle vostre foto utilizzando i bias frames o meglio il vostro master bias mentre il rumore termico viene rimosso tramite i dark frame e quindi il master dark. Che cosa vuol dire avere un rapporto snr segnale rumore alto? Avere un rapporto segnale rumore alto vuol dire che l'immagine è un'immagine dove la struttura, il dettaglio, il contrasto dell'oggetto che abbiamo fotografato è molto ben distinguibile e separata dal rumore di fondo e anche lo stesso fondo cielo ha un valore mediano che è superiore a quello del rumore di lettura e quindi da un punto di vista estetico abbiamo un fondo cielo con poca grana ecco anche i dettagli della nebulosa, della galassia stiamo fotografando, sono ben visibili ben distinguibili e non sono immersi nel rumore di lettura. Facciamo una distinzione anche tra la tipologia di sensori, sensori ccd e sensori cmos. I sensori ccd che sono nati per scopo scientifico per applicazioni scientifiche sono estremamente sensibili alla radiazione luminosa e difatti quasi tutti o penso la totalità dei sensori ccd ha una profondità di bit di 16 quindi sono a 16 bit e dando una full well capacity di 70.000. Che cos'è la full well capacity? La full well capacity è la capacità di un singolo pixel del sensore di poter accumulare carica elettrica, carica elettronica prima che si saturi quindi voi immaginate i sensori delle vostre macchine fotografiche come un insieme di secchielli di una certa altezza maggiore la loro altezza quindi maggiore numero di elettroni che posso incamerare e quindi maggiore sarà la loro full well capacity ed hanno anche un rumore però di lettura molto molto alto dovuto al fatto che sono estremamente sensibili. I cmos invece di contro hanno una profondità di bit più bassa, difatti i sensori attualmente sul mercato non vanno oltre i 12 bit e hanno una full well capacity più bassa circa di 15-20.000 però di contro rispetto ai concorrenti dei sensori ccd hanno un rumore di lettura molto molto basso circa un quinto rispetto ai competitor del mercato ccd. Questo è molto importante perché altrimenti se avessero avuto lo stesso rumore di lettura sarebbero stati inutilizzabili ed è anche per questo dall'altro canto che i sensori ccd hanno una profondità di bit, una full well capacity molto più alta perché hanno bisogno per l'appunto di superare quella soglia di rumore in maniera più aggressiva rispetto ai cmos perché se avessero meno bit a disposizione per esprimere l'informazione con tutto quel rumore direi che si avrebbero dei risultati non proprio ottimali. Quindi è fondamentale capire le differenze tecniche che ci sono tra le due tipologie di sensori per quanto riguarda la scelta di lunghe contro brevi esposizioni. Difatti per i sensori ccd viene sempre raccomandato di fare pose lunghe. Questo perché permette di avere un rapporto segnale rumore per il motivo che vi dicevo all'inizio e quindi avere immagini più pulite. Invece per i sensori cmos è il contrario nel senso che non c'è bisogno di fare pose troppo lunghe perché il rapporto, lo stesso rapporto tra segnale rumore che una ccd raggiunge ad esempio con una pose di 20 minuti, una fotocamera equipaggiata con sensore cmos riesce a raggiungerlo in cinque minuti. Però non facciamoci trarre l'ingando, rapporto segnale rumore non vuol dire la quantità di segnale acquisito, vuol dire che avranno lo stesso rapporto segnale rumore ma sicuramente la ccd avrà acquisito più segnale. In 20 minuti sicuramente ad esempio se state fotografando una nebulosa, una galassia che ha dei dettagli molto deboli, la ccd con 20 minuti sicuramente sarà in grado di raccoglierli. Il sensore cmos invece in cinque minuti si avrà lo stesso rapporto segnale rumore ma probabilmente non sarà riuscito a raccogliere tutti dettagli o comunque sarà riuscito a raccoglierli in maniera davvero molto molto debole. Un'altra cosa molto importante da dire è che il rumore di lettura si somma quindi se voi fate delle brevi pose dovete farne davvero tante, di contro se fate lunghe pose avete bisogno di farne di meno. Quindi rispondendo alla domanda Marco io ho tre ore a disposizione per acquisire segnale, mi conviene fare tre pose da 20 minuti per ora quindi nove pose totali da 20 minuti oppure mi conviene fare 18 pose da 10 minuti. Beh io in quel caso vi direi di fare pose da 20 minuti però c'è da prendere in considerazione anche un altro aspetto ovvero la saturazione del segnale, la saturazione del sensore perché come vi dicevo prima per appunto per la differenza che c'è tra la full well capacity del ccd e del cmos se voi fate una pose di 20 minuti con un cmos è vero che avete un rapporto segnale rumore ottimo molto molto alto ma probabilmente la maggior parte dei pixel del vostro sensore andrà a saturarsi perché non c'è abbastanza capacità per raccogliere segnale così a lungo. Ecco perché con i cmos si tendono a preferire brevi esposizioni per più esposizioni mentre a ccd meno esposizioni per un tempo maggiore perché avendo un rumore di lettura molto molto basso beh andando a fare lo stacking di centinaia di frames con anche esposizioni di 60 secondi si ha comunque un rapporto finale tra segnale e rumore molto molto buono e lo sto notando già io dai primi test che ho fatto con la Asimile 6. Mi sono reso conto che rispetto alla ccd, rispetto alla sbig anche facendo pose molto brevi di 30 secondi e facendo lo stacking di queste posizioni di 30 secondi mi sarei aspettato di avere un'immagine un po' così invece in realtà il risultato finale è davvero impressionante il rumore di lettura di queste camera di questi nuovi sensori cmos è davvero quasi inesistente per certi aspetti. Poi lì ovviamente dipende dai valori di gain e offset che andate ad utilizzare ma lì poi entriamo in un altro aspetto che vorrei curare più nel dettaglio in un'altra puntata come impostare gain offset per il vostro sensore cmos per avere il miglior rapporto tra segnale e rumore a seconda dell'oggetto che state fotografando. Altri aspetti da considerare assolutamente per quanto riguarda le problematiche legate alle lunghe esposizioni potrebbero essere il fatto che in un'esposizione di 20 minuti se succede qualcosa voi avete buttato 20 minuti di posa, 20 minuti del vostro tempo di esposizione totale quindi è una cosa sicuramente da prendere in considerazione che so una raffica di vento o qualsiasi evento possa andare a rovinare l'immagine beh se avete una posa da 20 minuti buttate una posa da 20 minuti è un danno molto più grande che buttare una posa da 60 secondi che si recupera con poco. Inoltre anche dal punto di vista dell'autoguida dell'allineamento aeropolare beh se cominciate a fare pose di 20 minuti deve essere tutto il più perfetto possibile perché altrimenti qualsiasi tipo di problematica legata alla guida ma non solo ma anche alle flessioni ottiche che ci possono essere nel vostro treno ottico qualsiasi cosa avviene ingigantita più si allunga il tempo di esposizione più questa cosa si allunga. Di contro sempre con le brevi esposizioni beh anche se non avete fatto un allineamento polare perfetto anche se l'autoguida non è perfettissima anche se dovrebbe esserlo beh riuscirete a cavarvela meglio rispetto alle lunghe pose. Quindi per rispondere alla domanda che ci eravamo fatte all'inizio lunghe esposizioni o brevi esposizioni qual è la risposta reale a tutto questo considerando che abbiamo parlato i ccd cmos full well capacity aspetti pratici e via discorrendo beh se state utilizzando un sensore ccd sicuramente vi consiglio vi consiglio a chiunque di fare lunghe esposizioni quindi se stiamo parlando di luminanza ed rgb di farle almeno di 10 minuti se stiamo parlando di banda stretta almeno 15 20 minuti perché altrimenti non riuscirete ad avere una buona separazione tra segnale e rumore. Invece se stiamo parlando di sensori cmos quello che vi consiglio è di fare pose più lunghe possibili prima che il vostro sensore si vada a saturare. Un'altra cosa fondamentale che dovete tenere in considerazione questo vale anche per i sensori ccd è l'inquinamento luminoso che rientra sempre nel discorso di saturazione del sensore. Un sensore ccd che ha una full well capacity di 70.000 rispetto a un sensore cmos che ne ha 20.000 beh impiega più del triplo del tempo prima di saturarsi quindi anche con inquinamento luminoso diciamo che ci si può spingere di più perché c'è più spazio per raccogliere sia il segnale che l'inquinamento luminoso mentre con un sensore cmos beh l'inquinamento luminoso se siete in un cielo non proprio buio siete un cielo urbano una zona rossa quindi parliamo di scala a borto tra 6 ed 8 beh lì allora dovete tenere tempi davvero brevi perché altrimenti rischierete che il sensore verrà saturato da l'inquinamento luminoso e quindi non ci sarà più spazio per i fotoni provenienti dai vostri soggetti quindi diciamo con il sensore cmos quello che farei io ad esempio nel mio cielo urbano con una magnitudine di 19.5 però da fare finora con la nuova ASI delle esposizioni tra 90 e 300 secondi ho sperimentato un po tutto il range 300 secondi forse sono andato un po troppo a saturare sull'LRGB invece probabilmente se fossi stato in banda stretta sarebbe stato ottimale come tempo di esposizione mentre sembrerebbe che per l'LRGB il tempo di posa migliore sia tra i 60 e i 180 secondi dipende un po dal soggetto anche da quanto è alto rispetto all'orizzonte e quindi se allo zenith ovviamente c'è meno inquinamento luminoso e quindi probabilmente me la sentirai di spingere esposizioni più lunghe rispetto a un soggetto più basso quindi lunga e contro breve esposizione la risposta vincente è l'esposizione più lunga possibile. Per la cutala di oggi ci fermiamo qui spero che vi sia adesso più chiaro che cos'è il rapporto tra segnale e rumore come si beneficia di un miglior rapporto segnale rumore nelle lunghe pose e invece al contrario nelle brevi pose come il rumore soprattutto se la macchina che sta utilizzando ha un rumore di lettura alto possa creare davvero seri problemi anche se le CMOS moderne abbiamo visto e abbiamo detto che hanno rumore di lettura davvero molto molto basso il che ci agevola per fare brevi esposizioni. Per questa sera ci fermiamo qui ci rivediamo la settimana prossima con una nuova puntata come sempre se vi piaceva questo video lasciate un mi piace se avete domande lasciate nei commenti sarò ben felice di rispondervi se vi piace questo canale iscrivetevi e cliccate sulle campanelle in basso per attivare le notifiche io per questa sera vi saluto qui vi auguro una buona serata dei cieli sereni e ciao